Musica Let's go bitches Da quanto tempo è che non sentivate la mia voce Mi dispiace ragazzi ora vi aggiornerò un pochino su tutto quello che è successo in questo diciamo breve periodo Anzi forse per voi è stato più un lungo periodo dato che avete dovuto aspettare così tanto per un mio nuovo video Anzi spero che l'abbiate aspettato così tanto però questo video non è diciamo un classico mio video E' più che altro per spiegare ciò che mi è successo e cosa farò, cosa succederò, cose del genere Allora per prima cosa dalla scorsa settimana che sto male praticamente E quindi ho deciso di prendermi una pausa perché ho cercato di capire quello che ho Cioè speravo comunque che mi passasse prima e non ero in grado comunque di portarvi qualcosa al top come ho sempre fatto in questo periodo Oltre a questo sono stato al comicon nonostante fossi malato E dove ho partecipato tra l'altro ad un piccolo torneo degli youtuber 2 contro 2 insieme anche a giocatrici del competitive cioè le Mad Kitties Però non voglio parlarvi di questo anzi vi voglio dire più che altro cosa succederà più o meno da ora in poi Cioè il perché ora non sono con un team, perché non sto giocando con nessun team al momento E cosa succederà nei prossimi video Allora per prima cosa il mio canale lo incentrerò su quelli che sono gli FPS Gli FPS competitivi quindi sulla competizione, sulle sports Come ho sempre fatto finora in modo da portarvi quello che è una novità nell'ambiente italiano Oltre a questo perché non sto facendo tornei ora al momento non posso Bene, per prima cosa non posso giocare Personal Gamer per vari motivi che non posso spiegarvi al momento E seconda cosa sarebbe brutto andare a giocare Personal Gamer con un team che ormai è già formato Entrando e facendo levare una persona dal team Prima di tutto è brutto perché praticamente toglie... Cioè non lo so, a me pare brutto prendere ed entrare in un team perché la gente mi vuole così per giocarmi la LAN Ma non deve essere così, anzi io preferisco non entrare in nessun team Non rompere gli equilibri e quindi continuare per il momento a concentrarmi su YouTube E a cercare di espandere quella che è la community del competitive E sperare comunque di riuscire a salire velocemente su YouTube Perché in questo modo riusciremo a portare ancora più gente Sì parlo al plurale perché noi, intendo noi, voi che mi state guardando questo video Siete voi che comunque riuscite a far conoscere questa... Diciamo questo lato di Call of Duty ma anche di vari giochi più avanti di cui tratterò Ma quello di cui voglio parlare veramente è che ci saranno delle novità molto importanti su YouTube Forse molti di voi non le condivideranno penso, non so cosa mi direte E di cui non vi posso parlare al momento e penso prossima settimana di riuscire finalmente a farlo È quello che spero E seconda cosa pure di quello che riguarda il mio futuro nel competitive Cioè nel gioco competitivo di Call of Duty in questo caso parlo Sempre questo se ne parlerà prossima settimana Spero quindi che... non lo so, siete qui in attesa Cioè quello di cui vi parlerò comunque nei prossimi video La scritta dei prossimi video sarà sicuramente parlarvi della situazione Cioè ciò che sta accadendo al mio canale di YouTube Primo Secondo Parlare di cose che è successo al Comic Con Che è stato un evento ragazzi troppo bello Cioè il calore proprio vostro quando stavate lì a tifare davanti al palco Cioè fuori di testa un evento del genere con voi così Oltre a questo vi dirò un pochino la scaletta di quelli che saranno i nuovi tipi di video che farò Sempre riguardanti comunque FPS, giochi competitivi in generale eccetera eccetera E oltre a questo ricontinuerò con quelli che sono i classici video Vedrò comunque di reinventare la serie Personal Trainer come avevo già detto Mi dispiace che mi sono fermato e non ho potuto fare i video di cerchi e distruggi che tanto avevo detto Perché sono stato male quindi non ho giocato, non ho fatto GB, non ho fatto niente E non ho potuto mostrarveli quindi Quindi ragazzi io spero che voi siate contenti di questo mio ritorno Perché siete stati una settimana senza un video del caro power Dopo che siete sempre stati abituati ad avere un video al giorno Spero che siate felici che mi sono rimesso in sesto Scusate ancora ho avuto problemi sia privati comunque sia problemi di salute Che si sono mischiati assieme quindi è stato un po' un brutto colpo Se così si può dire Che mi ha costretto a fermarmi per questo breve tempo Comunque siamo arrivati quasi alla fine di questo piccolo dominio che ho fatto Dopo che non giocavo da una settimana Sì non giocavo da una settimana Ho detto vabbè senti io provo a fare una partita in clan vs clan Vediamo com'è Magari riprendo un po' la mano su Xbox One Giocando in clou Via vediamo un pochino Io spero vi sia piaciuto il video Bitches Fatemelo sapere qui con un commento cosa volete sapere Non lo so creiamo qualcosa una conversazione tra utenti pure Non solo con me Quindi mi raccomando scrivetemi qui sotto Mettete mi piace perché ormai sono diventati fondamentali qui su YouTube Non si può più andare avanti senza mi piace e senza l'aiuto di voi supporters Quindi vi saluto bitches Ci vediamo al prossimo video Let's go Cazzo vabbè Cazzo vabbè Cazzo vabbè